ciao a tutti io sono federico e ho deciso di creare questo canale blockchain fede per spiegare un po il mondo delle criptovalute quindi partirei subito dal bitcoin cos'è bitcoin bitcoin è una criptovaluta digitale completamente decentralizzata a differenza dei dollari e degli euro che vengono comunemente dette valute fiat e che sono tangibili sono emesse da una banca centrale che sia la fede la federal reserve o la bce banca centrale europea per il bitcoin non esiste un'autorità centrale un sistema di pagamento centralizzato che lo controlli quindi esso opera in una rete peer to peer che consente a chiunque nel mondo di inviare e ricevere bitcoin senza intermediari come ad esempio una banca bitcoin è stata la prima criptovaluta ad essere stata creata il 31 ottobre 2008 una persona o probabilmente un gruppo di persone con lo pseudonimo di satoshi nakamoto pubblicò il white paper del bitcoin vale dire il manifesto del bitcoin diciamo la prima riga recita una versione puramente peer to peer di renaro elettronico che consentirebbe di inviare pagamenti online direttamente da una parte all'altra senza passare attraverso un istituto finanziario la rete bitcoin è stata quindi lanciata il 3 gennaio 2009 segnando l'inizio della rivoluzione delle criptovalute come funziona bitcoin prima dell'era digitale tutti effettuavano transazioni in valute fisiche ad esempio addirittura andando proprio all'alba del tempo prima attraverso il baratto poi con l'oro e l'argento e infine con le banconote solo recentemente il denaro è stato diciamo digitalizzato consentendo la creazione di conti correnti bancari online e di numerose piattaforme di elaborazione dei pagamenti online come ad esempio paypal tuttavia queste transazioni digitali per funzionare richiedono un sistema centralizzato una banca e servizi finanziari come paypal devono garantire che tutti gli account dei loro utenti siano costantemente aggiornati e conteggiati correttamente questi sistemi rappresentano la forma centralizzata di denaro digitale bitcoin invece ha rivoluzionario il denaro digitale decentralizzandone il processo contabile invece di una figura centrale che è responsabile di assicurarsi che le transazioni degli utenti siano state sempre corrette quindi ad esempio una banca centrale o no una banca la banca bitcoin funziona condividendo i saldi dei conti e le transazioni di ogni utente in tutto il mondo questo significa che chiunque può scaricare ed eseguire il software gratuito e open source richiesto per partecipare al protocollo bitcoin come utente bitcoin tutto ciò che bisogna conoscere per inviare bitcoin a qualcun altro è il suo indirizzo una serie di lettere e numeri non il loro nome o qualsiasi informazione personale quindi bitcoin garantisce in un certo senso l'anonimato finché non si comunica agli altri qual è il proprio indirizzo finché non ci si palesa sotto quell'indirizzo specifico inviando bitcoin ha un indirizzo ciò che si sta facendo è trasmettere una transazione attraverso la rete bitcoin usando la tecnologia blockchain la rete bitcoin ha un libro mastro sempre aggiornato che tiene traccia del saldo dei portafogli se anna vuole inviare un bitcoin a bruno il sistema controlla il saldo del suo portafoglio ovvero anna due bitcoin nel suo portafoglio quindi è valida la transazione da un bitcoin a bruno quindi completa la transazione bitcoin funziona assicurando che questo libro mastro condiviso sia sempre aggiornato e che le nuove transazioni bitcoin siano convalidate registrate e quindi aggiunte al libro mastro seguendo nell'ordine questo è il cuore della tecnologia blockchain nuovi blocchi di informazioni vengono aggiunti alla catena di blocchi già esistenti veniamo alla risoluzione del problema com'è possibile che questi blocchi vengono aggiungenti e chi li aggiunge il termine mining si riferisce all'atto di aggiungere nuovi blocchi alla blockchain in pratica i minatori di bitcoin dedicano notevoli quantità di potenza di calcolo per risolvere un problema critto grafico che è fondamentalmente un puzzle molto complesso il minatore che risolve il puzzle prima di tutti gli altri viene ricompensato con dei bitcoin una volta risolto il puzzle il blocco viene confermato e viene aggiunto alla blockchain quindi viene agganciato per questo viene chiamata catena di blocchi perché ogni blocco è susseguente all'altro queste nuove informazioni vengono inviate a tutti i nodi ovvero partecipanti al protocollo bitcoin e il libro mastro condiviso viene aggiornato con l'aumentare del prezzo di bitcoin la ricompensa in blocchi diventa sempre più attraente questo eccettiva più minatori ad unirsi alla competizione per estrarre i blocchi in cambio più minatori ci sono nel sistema più sicura è la rete inoltre l'aumento della concorrenza significa anche che i minatori investono continuamente in hardware migliori per garantire che la loro potenza di calcolo rimanga rilevante per essere competitivi il numero massimo di bitcoin che verrà emesso sarà di 21 milioni non è proprio esatto qualcosa in meno di 21 milioni ma diciamo per approssimazione 21 milioni un numero corretto quindi si tratta di un bene limitato nuovi bitcoin vengono immessi nel sistema ogni circa 10 minuti vale a dire quando viene minato un nuovo blocco della blockchain la remunerazione dei miners segue una serie decrescente che decrementa ogni quattro anni al momento della nascita ogni blocco minato generava 50 bitcoin dopo quattro anni attraverso l'alving vale a dire il processo che dimezza la remunerazione dei miners si è passati a 25 bitcoin con il terzo albing la remunerazione è diventata di 12,5 bitcoin e continuerà a dimezzarsi fino a quando non saranno stati emessi tutti 21 milioni di bitcoin una stima prevede che la data per questo evento è prevista per il 2140 quindi non ci saremo più per cui ci interessa relativamente i miners non guadagnano solo con la remunerazione dei blocchi ma anche dalle commissioni che sono incluse nelle varie transazioni adesso facciamo una piccola sintesi un piccolo riassunto che cos'è bitcoin in sintesi è una cripto valuta completamente digitale e decentralizzata non esiste un'autorità centrale un sistema di pagamento centralizzato che controlla il bitcoin la rete bitcoin ha un libro mastro sempre aggiornato che tiene traccia del saldo dei portafogli di tutte le transazioni effettuate e che si chiama blockchain i miners sono coloro i quali validano le transazioni all'interno della blockchain ricevendo in cambio delle proprie prestazioni dei bitcoin e bitcoin è una risorsa o asset limitata come ad esempio l'oro perché ne verranno minati solamente 21 milioni grazie dell'attenzione alla prossima ciao ciao